Cioè in questo momento il New York Times, stamani, ha aperto la pagina del New York Times. Cosa ci dice? Che in Siria praticamente l'esercito governativo sta ormai rinchiudendo l'Isis nella sacca di Aleppo e li stanno sbagagliando. Perché? Perché la Russia è intervenuta. Non solo in ambiti dei movimenti contro la guerra ma anche in ambiti che si rifanno al comunismo si dice hai visto perché sono tutti uguali da un lato gli Stati Uniti e dall'altro la Russia. Non è vero. Finalmente direi la Russia che si è ripresa dalla catastrofe in cui era stata ormai fatta precipitare e l'ha ripresa costituendo un fronte nazionale di salvezza nazionale, chiamiamola, di identità nazionale che va dai comunisti in tutta una gamma fino alla chiesa ortodossa fino ai nazionalisti. Oddio siete rosso-bludi. No. Allora io chiedo a chi oggi storge, sente la disfaccia, l'Isis, creatura del... Creatura. C'è un servizio del New York Times. Notizie di questo tipo le trovate se andate su Pandora TV. Vi raccomando perché è una televisione online creata da Giulietto Chiesa che però c'è il merito di dire cose che non trovate da altre parti e di dimostrare. Allora un articolo del New York Times del 23 scorso è un'ulteriore inchiesta che dimostra come la CIA tramite miliardi forniti dall'Arabia solita. È quella che ha fatto. Aveva armato i mujahidine prima dell'invasione sovietica dell'Afghanistan. Ha praticamente favorito e messo su tutto l'affare Contras in Nicaragua, eccetera, eccetera. Ed è quella che ha praticamente armato i gruppi anche islamici più transisti in Libia per minare dall'interno insieme a Comando Scatagliani lo Stato libico per demolirlo insieme all'Atacco Nato per poi passare in Siria a fare la stessa cosa. Cioè a questo punto hanno fatto finta di poi la coalizione a guida USA di colpire l'ISIS. Mentre dalla Turchia ogni giorno testimoniate da foto satellitari centinaia di camion e carichi di armi andavano all'ISIS. Due giornalisti turchi che hanno dimostrato questo e che l'hanno fatto anche tramite un video, ora rischiano l'ergastolo perché hanno rivelato un segreto mettendo in pericolo la sicurezza nazionale c'è. Questo è il concetto. Allora gli Stati Uniti in poche parole chiudiamo non vogliono una Europa indipendente, vogliono un'Europa in cui loro possono mantenere sempre la capacità di fare una base di lancio di operazioni verso est e verso sud. Ultime notizie, hanno quadruplicato, lo scriverò ora a martedì sul manifesto, hanno quadruplicato i fondi per aumentare le forze militari statunitense in Europa. Quadruplicato, quadruplicato. Questo è il discorso. Stanno spingendo sempre più a est, provocando ovviamente reazioni russe, oltre che sanzioni, controsanzioni eccetera, militari. Sono in gioco armi nucleari, lo sapete, le abbiamo in Italia, ora vengono ammodernate, sono sempre nelle mani degli Stati Uniti. Ora si prepara la riconquista della Libia. L'Italia dovrà avere il ruolo guida, lo si prepara dovrà avere il ruolo guida e si prevede chiarissimo cosa avverrà. Dovranno occupare zone costiere chiave, delle strategiche, dove ci sono i terminali del petrolio e del gas naturale, ovvio, ma anche ricordiamoci che la Libia dopo l'occupazione coloniale italiana fu occupata da Stati Uniti in Gran Italia che costituirono basi militari in Libia. Loro vogliono rioccupare le vasi militari perché hanno un progetto, poi che riguardano solo il nord-Africa ma l'inter-Africa. L'Italia facendo da guida di questa operazione si esporrà naturalmente a qualunque tipo di reazione, di tipo terroristico, sempre nei risvolti che ho detto, che avvengono nei momenti giusti. Quindi aspettiamoci in modo che l'opinione pubblica italiana anche restia a appoggiare una guerra, dica e no, bisogna, questi ci stanno raggiando. Sul fronte est un solo dato a proposito di fascismo, come dicevamo prima, in Ucraina hanno messo fuori legge in Ucraina, hanno messo fuori legge non solo il partito comunista, forza che ha partecipato alle elezioni democratiche e rappresenta una notevole parte anche dell'elettorato, ma hanno messo fuori legge il comunismo. Ci sono gli articoli, ora c'è l'apologia di fascismo in Ucraina, c'è l'apologia di comunismo, nel senso se uno si rifà a concetti di lotta di classe, non solo, ci sono articoli per cui se io diffondo un volantino o canto o fuori a un certo punto fischietto l'internazionale e mi sento, c'è una pena dai 5 ai 6 anni di reclusione e questo sta avvenendo nel cuore dell'Europa. In Ucraina tramite CIA e Company, il dove è il curato. Grazie, grazie. Grazie mille. Grazie mille. Mario Di Luce che ha fatto un quadro esaustivo, anche in un tempo relativamente breve, di quello che sta avvenendo a livello internazionale di come la guerra si sente di più alle volte, d'altronde ci sono 31 complici a livello mondiale, quindi vediamo come la guerra comunque sia un mezzo di riproduzione del camionismo. Io volevo dire una cosa, ma che facciamo? Scusate, che facciamo? Si fa una pausa per mezza mattinata per la colazione o si continua? Scusate, c'è un quarto dormante. Tocca a te, compagni? Si, 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 si. Magari anche perché si sente un po' vociparate da fare, si. Puoi dare una sbirciatina? Si, si, si. Ci aspetta, ci sto aspettando che a chi c'è non chiede. Mi pareti da Livorno, rappresentante del TRC di Livorno anche se in modo abbastanza critico, però insomma un compagno di spessore, comunque promuove molte iniziative nella città di Livorno, è interessante, ringrazio per questa partecipazione. Io ringrazio il segretario, ringrazio la sezione di averci invitato anche noi di Livorno a partecipare a questo congresso, quindi ne approfitto anche per parlare della collaborazione che c'è tra la federazione di Livorno di rifondazione e la sezione del Partito Comunista, Granci dell'Inguero di Pisa, noi in questo momento stiamo collaborando per la ricostruzione del Partito Comunista, quindi all'interno della federazione di Livorno si è formata, diciamo così, una specie di forerente che sta lavorando per la ricostruzione del Partito Comunista in quanto riconosce che ormai rifondazione comunista, anche come accennava nel suo intervento segretario riuscente, ma è arrivata al capolinea, cioè quindi è stato il Partito di Resistenza, ma a questo punto un Partito di Resistenza non ci serve più, ci vuole un altro strumento invece che sia uno strumento di aiuto, diciamo, ai lavoratori, come avevano in precedenza quando avevano il Partito Comunista. Finito il Partito Comunista, giustamente tutto è andato a Catapascio e a Ruota Libre siamo arrivati a un governo di golpissi, quindi questa è la situazione in cui ci si trova. Ecco, allora io vorrei parlare un pochino appunto della collaborazione che stiamo portando avanti noi, ci siamo incontrati in diverse manifestazioni a Livorno, no? Ci siamo incontrati il 7 novembre, abbiamo ricordato la presa del Palazzo d'Inverno da parte dei Bolshevici, ci siamo incontrati ultimamente in un seminario che abbiamo fatto, no? Appunto per, sulla ricostruzione del Partito Comunista e a questo punto io vi racconto un pochino com'è la situazione, a che punto siamo, no? Sulla ricostruzione del Partito Comunista, specialmente noi della Federazione di Livorno. La Federazione di Livorno, diciamo così, no? Si è mossa insieme al Partito Comunista, al PDC, cioè che è partita di lì, no? L'idea di rifondare il Partito Comunista e noi ci siamo, diciamo così, affiancati al PDC. L'anno scorso, il 21 gennaio, abbiamo fatto una grande manifestazione a Livorno, proprio, diciamo sì, in vista della ricostruzione del Partito Comunista, che poi, andando avanti, sono venute delle situazioni che hanno rallentato, diciamo così, questo lavoro per la ricostruzione del Partito Comunista. Tant'è vero, pensavamo, diciamo, che tutto fosse appianato nel PDC, perché sono stati quelli, no? I promotori della ricostruzione del Partito Comunista, invece ora avvengono dei rallentamenti, che sono abbastanza preoccupanti. Come sono questi rallentamenti? Ci sono state delle riunioni a livello nazionale, no? Addirittura siamo arrivati alla formazione, no? Diciamo di una commazione che prepara le tesi per il Partito Comunista, no? Le tesi per il congresso del Partito Comunista e anche, diciamo così, no? Una tesi di come deve essere organizzato il Partito Comunista e l'organizzazione del Partito Comunista come organizzazione era quello che diceva il segretario prima, che a un certo momento la struttura del partito deve essere quella di una democrazia interna, no? E quindi non, diciamo, una porta spalancata come la ricondazione comunista dove la gente entrava, usciva, faceva quello che voleva, invece no, in un partito comunista non si fa questo, no? Quindi c'è un centralismo democratico ed è quello che ha funzionato, se no non si va avanti. Allora, è avvenuto questo qui, no? Che quando si sono riuniti a Roma per poter formare, diciamo, per preparare le tesi congressuali, è venuto fuori che il PDC vorrebbe il 75% di tutti i rappresentanti che formeranno il Partito Comunista. Allora, immaginate bene che partendo con queste quote, voglio dire, allora, te, Partito Comunista, quindi C, hai il 75%, il 25% lo lasci a quelli che vengono di rifondazione e a quelli che non hanno partito. Quindi, in soldoni hai rifatto le corrette. Cioè, voglio dire, allora, nelle storie di fondazione perlomeno non ho neanche, voglio dire, non sono neanche, diciamo sì, assorbito come sta avvenendo. E qui è avvenuto, diciamo così, lo scontro e una rottura grave perché il 75% è quella formazione, no? Che proviene dal costruita, no? Quindi i di libertiani. I di libertiani si sono accorti che se si andava a rifare il Partito Comunista avrebbero perso tutto, no? E quindi non avrebbero più fatto niente e quindi hanno tentato di riavvalersi della loro posizione in modo tale da rallentare la formazione del Partito Comunista. Sicché ci sono due schieramenti, questi qui di libertiani, no? Che vorrebbero rifare un Partito Comunista in modo tale poi di tornare a fare le loro alleanze con chi gli pare o con la Rissella o con il PD, come hanno sempre fatto. E invece c'è un'altra parte quella degli intellettuali fra cui, no? Diciamo, già che è tutta l'altro gruppo degli intellettuali che invece è, anche come Catone, eccetera, no? Che a questo punto si sono schierati contro. Se dobbiamo riformare, ricominciare da capo, rifare un Partito Comunista si fa partendo, azzerando completamente le quote, perché se si parte dalle quote a questo punto si rifanno le correnti subito e siamo da capo un'altra volta. Punto e basta. Allora, diciamo così, la parte degli intellettuali è quella su cui anche noi di Livorno ci siamo appoggiati. Tant'è vero, abbiamo fatto una riunione, no? Molto allarmata e preoccupata e abbiamo preso una posizione, tant'è vero che oggi noi dovevamo essere un gruppo abbastanza nutrito qui, invece non ci siamo, perché avevamo detto ci venivano 5, 6, 7, doveva essere anche un nostro coordinatore nazionale. Non sono venuti perché è stata fatta una riunione molto ad angur battente a Firenze di tutti, diciamo, quelli di fondazione comunista che aderiscano alla ricostruzione del Partito Comunista, sì che sono là in riunione per valutare questa situazione molto grave di spaccatura, perché a questo punto, diciamo così, se non riesci a mettere in minoranza, no? Questa componente che vuole un'altra volta il 75% diventa un problema, quindi cosa si fa? Loro vanno per conto onore e la parte, diciamo così, degli intellettuali e quelli di fondazione vanno in un'altra, quindi diventa un problema abbastanza grave, sì che attraverso quello che era fuori oggi, quindi si spera che con quella parte del gruppo intellettuale riuscire a riportare la situazione, no? Dentro la costruzione del Partito Comunista. Diciamo così, noi ci speriamo, tant'è vero che era nei fatti che volere rifare un Partito Comunista non era, come diceva Lenin, né un giro di Valser e né un trans di Gala, è una grossa difficoltà, perché evidentemente anch'io mi ero un po' illuso che una volta, diciamo sì, buttato alle basi per poter formare il Partito Comunista, dato che ce n'è necessità, no? Quindi fondazione ormai è arrivata al capolinea, no? Quindi speravo che fosse molto più, diciamo sì, agevole fare. Invece mi sto rendendo conto che i tempi sono più lunghi e quindi le difficoltà ci sono e quindi vanno tutte riaggiustate. Io penso che in qualche modo, diciamo, riusciremo a superare questa cosa qui. Quindi anche con voi della sezione No, Grange e Berlinguer, siete impegnati come noi di Fondazione di Livorno, stiamo lavorando insieme per poter ricostruire questo Partito Comunista. Ecco, anche la mia, la nostra presenza qui oggi a questo congresso è dovuto proprio, diciamo sì, per rafforzare questo, diciamo sì, questo sodalizio. D'accordo con quello che sta portando avanti Ferrero non ci siamo, perché di fatto, eccola all'interno ancora, anche al Partito delle Fondazioni di Livorno, ci sono ancora quelli che pensano che sia possibile salvarla ancora di fondazione. Mentre anche ragionando è difficile fargli capire che Ferrero ha una visione ormai in questo modo, vuole tenere, no? Rifondazione perché c'è un enorme patrimonio immobiliare, no? Da difendere, e quindi vuole tenere le fondazioni, però quando va a fare, no? Le ammucchiate, scompare il ciclo di fondazione, non c'è. Quindi lo tieni semplicemente come emblema per salvare tutto il patrimonio immobiliare che c'è. Quindi noi anche di Livorno siamo purtroppo, abbiamo anche questo grosso problema, che abbiamo un enorme patrimonio immobiliare, abbiamo tutte le nostre sedi che sono nostre, l'abbiamo tutti, diciamo così, costruite noi in questi vent'anni attraverso sacrifici in mani e ora a questo punto dobbiamo anche tentare di poterlo difendere, no? Perché abbiamo, siamo credo l'unica federazione a livello nazionale, noi, che abbiamo un accordo che il patrimonio di Livorno è mezzo è della federazione e mezzo del nazionale. Quindi noi abbiamo, diciamo, anche questa grossa handicap, no? Anche per poter uscire anche da rifondazione e andare in avanti per poter rapidamente formare il partito comunista. Portarci dietro una parte di questo patrimonio immobiliare perché una volta che noi usciamo rimane la rifondazione, quindi non usciamo più e rimane lì. E noi una volta che non andiamo più sedi dove andiamo? In mezzo alla strada? Quindi noi abbiamo anche questo qui, dobbiamo trovare a livello nazionale un accordo in modo tale che le sedi della federazione di Livorno rimangano alla federazione e di lì riuscire poi, diciamo, in una fase successiva ad avere un pezzo di sede anche quelli che formano il nuovo partito comunista. Comunque, i passi, io devo dire, sono rallentati e inoltre le difficoltà sono venute all'alpettine e quindi c'è un rallentamento e queste difficoltà vanno affrontate e vanno superate perché senza la possibilità di avere un partito comunista tutto quello che possiamo dire, lo possiamo dire a livello di intellettuali, di studiosi, eccetera, ma lo strumento vero che ci riporta a fare politica e a ricostruire una cultura del lavoro, una cultura per i giovani e una cultura, diciamo così, aperta alla società, la si fa soltanto con un partito e questo è il partito comunista. Grazie. E' democratico, ma perché pesa sempre quella burocrazia che continua a insinuarsi e che vuole perpetuarsi e questo inevitabilmente perché se qualche partito dovesse avere una rendita di posizione quella è negativa perché FTC e Rifondazione hanno fatto quello che hanno fatto, quindi fossero dei partiti meritevoli e sarebbe comunque inconcepibile, ma insomma sta rendita di posizione da dove arriva non si capisce.